Che non fare la terza dose per chi ne ha fatte due, è come non averne fatta neanche una. È certo. Funzionicchiano. Questo stesso, ecco, dobbiamo cercare di dare questa raccomandazione, perché la terza dose è il booster, cioè è quello che rafforza in maniera, diciamo, quasi definitiva, i sistemi immunitari. Ma, ma sei sicuro che non fa male? Ma no, è una stupidaggine. Io non resisto più. Non mi calmo, non mi calmo. Alla prossima che mi fanno gli spacco una bottiglia in faccia. Andiamo. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è stata, del primo cittadino e amico mio, tutti gli e che te ci ho mannato io. E va, e va. Va avanti tu, che adesso c'ho da fare. Sarai la mia metà, ma se non parti. Diventi in altro bolla mia tre quarti. E va, e va, e va, non puoi sapere il piacere che me fa, magari qualche amico te consola, così tu fai la scarpa e lui te sola, io te ce manno sola, io te ce manno sola. Sono pensato, io te ce manno sola, io te ce manno sola, io te ce manno sola, io te ce manno sola. E va, e va, e va. Io so, salmone non mi importa niente, a me mi piace andare contro gorente. E va, e va, e va, e va, che più sei grosso e più ci devi andrà, e ti ritroverai nel posto giusto. E prima o poi vedrai, c'è provi gusto. C'è un fatto che mi butta giù al morale, io mi ritrovo sempre al gabinetto e ma ricanta addosso sto finale. E va, e va, e va, e va, e va, e va, che si ce devi andrà, ce devi andrà. E va, e va, e va, e va, e va, tanto se t'anni scanni dietro a un vetro, la mano c'hai davanti e un'altra dietro. E va, e va, è inutile che stiamo a litigare, tenendosi abbracciati stretti, stretti, che tanto prima o poi ci andiamo tutti, a quel paese, tutti, a quel paese, tutti, a quel paese, tutti. Oh ma tu che fai, un bambino, ecco e dico, le fosso.